Ciao a tutti, oggi prepareremo la crostata al cacao con orange card. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono una dose di orange card, farina di tipo 00, cacao amaro, burro, zucchero, uova, manillina e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità a 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, le uova e il tuorlo, la farina, il pizzico di sale, la vanillina e il cacao amaro. Ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso due terzi dell'impasto e adesso lo stenderemo tra due foglie di carta da forno. Posizioniamola su uno stampo rettangolare per crostate. Buccherilliamo il fondo con i rebbi di una forchetta. Mettiamo l'orange card. Rivelliamo bene. Mettiamo momentaneamente da parte e stendiamo il resto della frolla. Dopo aver steso la frolla ritagliamo delle delle stelline della misura di 4 centimetri. Posizioniamola sulla crostata. Posizioniamo sopra le stelline. Cuocere in forno prediscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti. la crostata è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Crostata al cacao con orange card. Grazie e alla prossima ricetta! Crostata al cacao con orange card. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!